permetti volevo fare un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre io sono il salutatore facciamo un saluto di persona personalmente io e il salutatore a tutti i fan ovviamente del grande agente cadarella un mito è una sorpresa per te la mania del salutatore grande angelo russo ciao